Ciao a tutti ragazzi, ben tornati in questo nuovissimo video, sono Povernic08 e oggi siamo in un video di FNAF Ultimate Custom Night Allora, siamo su questo gioco perché mi voglio prendere i jumpscare Bene Malamente Malamente Oggi faremo le challenge, ma non le challenge queste qua, ma delle challenge create E le creerà il mio amico Gabriele03F che sta registrando Ovviamente, buongiorno ragazzi Bene, vai, crea le te, crea le, mi raccomando, difficili per me e facili per te, va bene? Ok, va benissimo, quindi facili per me e difficili per lui, adesso Vai Per lui una cosa difficile potrebbe essere Lui lo devo mettere Ah, ok, ha messo Freddy Fazbear, lo conoscevi tutti? Lo li metterò tutti a livello 10, grazie che li conoscete Tutti a livello 10? Sì, tutti Sei pazzo Tutti li metterò a livello 10 Speriamo di no Vabbè, comunque adesso ha messo Freddy Fazbear a livello 10, conoscete Freddy? Sì Freddy, in pratica, lui arriva dalla porta, basta bloccarlo, è abbastanza facile da configgere Poi io metterei, vediamo, io metterei Aspetta, aspetta Vediamo chi mette, il Fongai, perché a lui gli piace il Fongai Perché è il mio miglior amico Eh, anche se, cioè, anche se ogni volta lo muta, però vabbè Poi vediamo Ma metto, lui lo voglio mettere, Rockstar Fox Chi ha messo? Ha messo Rockstar Fox A uno Anche a lui gli piace Rockstar Fox, benissimo Poi ci metto lui, Rockstar, no, Rockstar Freddy no No, Rockstar Freddy no Mettiamo, no, lui non lo mettiamo Old Man Required non lo mettiamo Vediamo chi mettiamo Mettiamo adesso, però decido io un po', eh Mettiamo Phantom Freddy Dov'è Phantom Freddy? Phantom Freddy è quello là, quello fantasma là sopra, vedi? Quello, no, quello accanto Benissimo, bravo Vedete, non sa neanche chi è Phantom Freddy Ma perché non Ma è facilissimo Lui basta puntare la torcia Lo sai, non ci sto vedendo io perché te stai registrando Ah, scusate ragazzi Scusateci Ecco, ora ci vedo, grazie Gabriele Grazie, ora va bene Benissimo ragazzi, adesso continuiamo Quindi Freddy Fazbear Lei la mettiamo Abbiamo poi Rockstar Foxy Poi White Lady Chica La mettiamo? Livello 5 5 Piensa, secondo me si prenderà i peggio Gianni Infatti Eppure Circus Baby Vabbè Vuoi mettere o no? Circus Baby Io non la metterei Vabbè, non mettiamo mai Bellina Mettiamo l'ultimo E metti Molten Freddy Cioè, chi è? Quello, no, quell'altro Quello accanto Lui Grazie Gabriele Quindi adesso ricapitoliamo Abbiamo Phantom Freddy E basta puntargli la torcia No, partiamo da qua magari Ma quanti ne abbiamo messi? Freddy Fazbear Che lui va dalla porta Gabriele puoi andare più sul po' con i bracci Ok, scusate Che così mi dà fastidio Abbiamo White Red Chica Vedete Che lei in pratica sta nei condotti Abbiamo Phantom Freddy Che lui basta puntargli la torcia Abbiamo Mayonet Che ha messo ora Che non mi mette i miei altri Vabbè Che lei Ah no, ok Non la mette Posso decidere di metterne un'altra Doctor Foxy Che lui è casuale Cioè, tu gli prendi il tuo pappagallo Smetterne una mia cucina O puoi morire Aspetta O muori Oppure vivi E abbiamo il Fongai E Molten Freddy Che Molten Freddy Vanno nei condotti Il Fongai Ti dà noia E la Trash Gang Che vedete Loro hanno i punti interrogativi Sono carini Perché sono bellini Puoi alzare Bellissimo Ah Vabbè Cominciamo la show Aspetta Prima di cominciare Volevo vedere Mi servono 2000 Per sbloccare il prossimo ufficio Ok Eh, magari ci riusci Cioè, no, 390 Zitto 390 Eh, vabbè Guardate Allora, come sono i tasti? Ecco Vedete Lui non conosce Con il W Cosa si fa? Si va avanti? Con il W Si chiude la porta Dei condotti Signor Pietro Ma esiste una porta Dei condotti? Pietro è quella Da dove arriva White Red Che è molto in fretta No, come? Mi prendo i peggio jumpscare Ora Benissimo, ragazzi Con la A Chiudi la porta Da dove arriva Adesso Chiudi il ventilatore Con Space No, aspetta Aspetta Devi chiudere il ventilatore Con Space Chiuso il ventilatore Ma perché devo chiudere il ventilatore? Devi puntagli la torcia Vedi che c'è Phantom Freddy Punta Dove lo vedi? Dove lo vedi? Pietro, è a sinistra Quello lì Lo vedi che si sta formando? Dove? Dove? Pietro davanti a te Mutta Pietro Guarda Freddy Sta diventando impossibile ragazzi Freddy vai No, no, no Chiudi Ci porta Cos'è vanno ad aprire le telecamere? Poi guarda Vai Aprile le telecamere Cos'è va? Chiudi Basta premere S S Dove è S? Eccola Vai adesso Andiamo Non da Freddy Andiamo nel vent system Invent system Chiudi Ecco Chiudi la porticina Come si fa? Sparito tutto Vai qui Prendi qui Non c'è un che vengo Non c'è un che vengo Ho chiuso? No, mi sta Non sta andando via Premi V V V V È chiuso? V Premi Non tante volte Se lo stiamo E chiude V Pietro Mi ho premuto Non c'è Non c'è un bandy jams No Non avete in azione No raga Sono uno schifo Io ho questo gioco Mamma mia Ho fatto Uno scossone Pietro Raga No Io non faccio schifo In questo gioco Ragazzi Ed erano le tue Erano ancora le tue Raga Ma non mi ha fatto nulla Ecco Questo mi ha fatto Questo raga Vi dico Questo mi ha fatto Meno paura Che quello di prima Infatti Questo qua Era un pochino più Calmo Diciamo Quello di prima Ha proprio la faccia Bene Bene ragazzi Bello sto video Eh Bello farvi vedere Io che prendo I jams Che rappresenti Quindi challenge Non riuscita Bene Ora ci sarà il momento Di Gabriele A fare la challenge Benissimo Adesso la challenge La farò io Bene Signor Pietro Massai Reggerò il telefono La telecamera Che è un telefono Benissimo È il telefono Adesso Lui Lui Andrà sopra di me Ecco la faccia È solo a mille iscritti Se facciamo mille iscritti Le peggio cose Succedono Bene Io se lo metto Sulla testa E vedete Ci aveva aggiunto Mango il Dede Quindi Dede La togliamo Dede Avete visto Quella bamboccina Che sembra Questo qua Che si chiama Balloon Boy Che tipo Ballava Però vabbè Ballava Quindi adesso vediamo Abbiamo Whitehead Chica Freddy Fazbear No Benissimo Andiamo Vai c'è uno carico Ragazzi Comunque Pietro lo so Se guardate Lorenzilt Pietro Tipo lui ha completato Tutta la Ultimate Castor Night Pietro in pratica Sarebbe tipo Uno Zero 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 Uno Per cento Di Lorenzilt Bene La mia challenge Non ha funzionato Ora vediamo Quella di Gabri Vai vediamo Adesso Apriamo Vai la telecamera Allora Freddy ancora non c'è Andiamo nel Vent System Ci c'è Come vedete C'è molto Freddy E Whitehead Chica Ah ma Hai messo La mia stessa challenge Certo Perché la dobbiamo Fare tutte Perché non uso Il Fongai Vero Il Fongai c'è Comunque Vai Adesso Guardiamo Freddy Il Fongai Infatti c'è Freddy Non lo musare Poverino Poi loro Stanno qua Quindi Chiudiamogli la porta Anche se Credo che comunque Molten Freddy L'ha oltrepassi Però vabbè Freddy Vediamo dov'è Si sta avvicinando Attenti a Freddy Lascialo il Fongai Freddy Chiudi la porta Oh no Il rumore Dov'è che devo Chiuderlo Non posso Ecco L'ho chiuso Vai ragazzi Perché chiudi Il Fongai Perché lo muti Perché va mutato Sennò lui ci fa Elo 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 Io non capisco niente Di quello che dice Vediamo Vediamo se Molten Freddy Oltrepassa Per una volta Prendi il pappagallino Ragazzi Se questo video Arrivi a 10.000 Eh sì A 10.000 Se questo video Arriva 10 likes Faremo un altro video Di Ultimate Custom Night E soprattutto Gabriele Premerà il pappagallino Per la prima volta Premerò il pappagallo Quel pappagallo Ho detto Papa No Vattene via Bravo Non te lo volevo dire Io l'avevo già visto Non te lo volevo dire Perché volevo Partire Sono più pro di te Zitto Chiediamo la porta Qui Ti profumano i capelli Ehi Cosa c'è Chi ha offeso In miei capelli Sto sniffando Intanto Sfruttatore Scusate raga Vabbè Scusate Per Bene La brutti Ecco E' bello Lui è il mio personaggio preferito Si chiamano Trash and Gang E c'è il pappagallo E piace e pazza Ho dato un bacio Nei capelli Speriamo morita No Volevo farti 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 Perché non mi prendo più paura A queste cose Perché ormai Ti stai abituando Eeeh Vabbè ragazzi Noi siamo abbastanza forti Però non me lo immaginavo Mi sembravo di averla chiusa La porta a freddi Io non te lo volevo dire E non l'avevi chiusa Vabbè effettivamente Hai fatto bene Perché la challenge Lo va a finire Adesso ragazzi Come avete detto Altito ci sarà anche Un easter egg Si infatti sarà FNAF Challenge FNAF Ultimate Custom Night Challenge Più easter egg Si Easter egg di Da 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 Ricordatevi Se non funzionerà Quest'easter egg Ci sarà scritto Easter egg Finito male Ok Toglio il fongai E' vero il fongai Scusate mi dimentico Sempre di toglierlo Perché è bello Anzi Basta Guarda Per essere sicuri Tolgo tutti Così set All zero Adesso Il easter egg Riguarda Golden Freddy Allora Intanto subito All'inizio vi farò vedere Una cosa Che c'entra con l'easter egg Si Una cosa che Ho notato io Però Anche più Adesso Adesso gli è piaciata Perché adesso È infissa Con questo Easter egg Nello easter egg Guarda allora Lo vedete Qua non c'è il cappello Vedete qua Vedete si vede la bibita Vabbè Diciamo che qua Vedete si vede E una bibita Vedete si vede Che era Bianca e blu Bene Adesso dobbiamo Prendere dei soldini Quindi Prendiamo I soldini Prendiamo Questi soldini Che sono sparsi Per le telecamere Tipo Ne vedremo qualcuno Vediamo ragazzi Di senso Questa è la testa Di Gabriele Basta farmi vedere la testa Basta I capelli Adesso Vediamo se vediamo dei soldi Adesso Reset ventilation Perché vedete Dovemmo comprare quella cosa da 10 Nella telecamera Camera 8 Nel price corner Vedete Dobbiamo comprare questa Questa cosa qua Vedete da 10 La death demonessa Si chiama death coin Che vuol dire mo No è la demonizzazione Soldo della morte Non è la demonizzazione Sì perché Tanto non ci guadagni niente Con questo video Raga mi donate 500 euro In live Ragazzi Non lo fate mai Nella vita È una cosa Pericolosa E oltraggiosa Ragazzi Io sto sudando E oltraggiosa E verrà Capite io sto sudando Quando finirà questo video Mi andrò a congelare Nell'acqua ghiacciata Che poi Non so se l'avete notato Ma questa cosa Io avevo visto Una cosa nera qua Voi per caso Sapete se tipo c'era Era uno di quelli O che Salvini Ok Non raccontate lui Che lui fa No non mi ho scoperto Fai meme brutti Diciamo Non sono brutti Eri sono chiesti Quando siamo andati al cinema Eeeh Basta Non ne parliamo più sentito Ok va bene E quindi Scusate ragazzi Questo non doveva Non doveva dirlo Infatti scusate Se spero Adesso Guardate qua che c'è C'è il cappello Vedete Non si vede più la bibita Vedete Ok c'è un cappello C'è un cappello Ecco Piazza Romassa è esagerata A dirlo Ma c'è un cappello Che fa parte del tag C'è un cappello Esagera lui con il cappello E' 99 euro Ne dico Il cappello Il cappello Ma non è vero E' un cappello rarissimo Non è vero Lo trovate 5 euro Ne dico Anzi 2 euro Mi sa Fatti 99 euro Adesso basta Aggiungi sempre 2 centesimi in più 102 euro Non aggiungerli Eccolo Ragazzi è sparito per sbaglio Ragazzi Avete visto E' però tipo La moneta si era illuminata No io non l'ho vista Ragazzi Cercate di notarla Che quando c'era Golden Fire La moneta si era illuminata E hai cerchito sotto Click Ora aspettiamo I ritorni Golden Freddy Ecco quindi Aspettiamo Vai Ritorna su dai Se no Non posso far vedere Ai ragazzi Eccolo Ragazzi Gabri sei un nabbo Lo so ragazzi Lo so tantissimo Ragazzi Oggi c'era pure un video Su Fortnite Del pane L'avete visto ragazzi Si l'hanno visto tutti Ma qua avete visto La moneta si era illuminata No quello non l'hanno visto Vabbè ragazzi Se non me l'avete notato voi Io no Perché eravate congiute Che guardare la moneta Io non stavo controllando No lui no Però c'è La moneta si è illuminata Ma poi perché dici ragazzi C'è solo mia mamma Iscritta al mio canale Ragazzi Non ascoltatelo Basta Ecco guardate E' Freddy lui Non è Freddy E' Fredbear Quello che vi ho detto All'inizio video Lo conoscete Fredbear Avete visto Ci ha attaccato Non ci ha attaccato Golden Freddy Ma ci ha attaccato Fredbear Poi avete visto La moneta si è illuminata Infatti No io si Lui si per una volta L'ha notato Bene ragazzi Questo video si conclude qua Aspetta Si conclude Aspetta Si conclude Mentre Ti tieni Ti tieni un secondo Il telefono Gabri Certissimo Alzati un secondo Questo video si conclude Con una cosa Che avevo progettato io E non l'avevo detto a Gabri Ragazzi Cosa non mi ha detto Eravamo tutti in programma Cosa Con cosa Si concluderà Con un jam Che è il di lefty Che avrò io Io non tocco più nulla Guardate ragazzi Le mie mani Gabri Metti le mie mani Le mie mani sono ferme Non le muovo La tastiera cosa fa Guardiamo le dita No non guardiamo nulla Mi sa che le muoverai Eccelto No Aspettiamo Che lefty ci fa il jumpscare Ma lefty dove appare Uno aspetta Lefty devi fare rumore Per attirare lefty Fai rumore Premi uno Con uno Fai troppo rumore Dove è lefty Ora arriva ragazzi No Statevi pronti a un jumpscare Quanti jumpscare fa lefty Uno secondo te Sì grazie al cappero Però Il capperetto si dice No ragazzi No io ho il cuore in fiamme No raga 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 Gabriele sta tenendo gli occhi chiusi Io no per ora Perché è lui che si deve Perché è lui che si deve Peccare il jumpscare Ragazzi Infatti è lui Cerco di inquadrare bene Sto inquadrando bene Sì Troppo bene Uccello Ho premuto raga Raga ho premuto l'uccello Lefty non arriva ragazzi No lefty non sta arrivando infatti No voglio Che vuol dire sound prof Cos'è sound prof Guarda Apri gli occhi un secondo La mia prof Vuol dire Sabbia professoressa No raga 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 ho troppo paura raga Se lo beccano i jumpscare ragazzi Raga io ho troppo Raga io ho troppo paura Perché il jumpscare di lefty fa paura Lefty fa paura Non lo so Non lo so io se è lefty Ditelo a voi nei commenti Se l'avete mai beccato Un jumpscare di lefty No 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 Vabbè ma comunque Lefty non sta arrivando Secondo me si è baggato No 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 La ventilazione raga No 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 Ok 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 Almeno sto facendo qualcosa Lefty secondo me ragazzi Si è baggato Ragazzi non riesco a vincere raga Improbabile Raga non sto facendo niente Io ragazzi ho un nuovo meme Improbabile Lo dico sempre Raga io non sto facendo nulla Eh certo Eh si vabbè Hai guardato le camere duemila volte Vabbè per esettare la ventilation effettivamente Se non muoio di ventilation Non muoio di calma Per esettare la ventilation subito Non lo so Ragazzi ho sentito anche Quello rumore Fa Pi 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 Guarda che sento dei fischi Anch'io se non è lefty carriva Mi sono paventata No raga questo video è troppo OP Da quanto è che stiamo Gabby non sta inquadrando per nulla proprio Da quanto è che stiamo registrando però Raga 16 minuti stiamo registrando E' un raga che bei video che facciamo proprio Sì proprio questi sono di qualità Raga io vinco così Cioè sono le tre Si è buggato lefty raga Si è buggato Facio rumore cerca tutto per fare rumore Cioè scusa il jump Che non è iniziato e lui l'ha visto Si perché avevo un attimo Scuso gli occhi li ho riaperti Mi sono visto lefty e faceva No raga raga troppo Ragazzi pi andiate spaventato Mi sono spaventato raga scusatemi Comunque ragazzi questo video finisce qui Spero che vi sia piaciuto il jumpscare Anche alla fine E da paperenic08 Tutto è tutto e ciao ciao Linea allo studio Buongiorno